Lo so che è tardi Alessia, so che è tardi, ma ti do questa perla finale, io mi ritiro, ufficiale, no, una settimana con loro non la reggo, arrivederci a tutti, non è uno scherzo, ciao, vengo in Italia e torno in clinica. Ma cosa dici Massimo? No, no, è la verità, tranquilli. Ma cosa è la verità? Una settimana con chi non la reggi? Con chi? Con chi è che non reggi la settimana? Ho sentito abbastanza, voglio tornare da mia moglie, basta, fine, fine, non c'è decisione, no, ho presato una vaglietta, 45 volte questa vaglietta di merda, adesso basta, io non ci torno con loro a sentirmi tutti i mugugni, no, torna a casa, arrivederci, non ci devi parlare per forza Massimo, non li devi sentire i mugugni per forza, Massimo, dai che non si fa così, Massimo ti sta parlando Alessia. Ho salutato tutti, no, ma salutate, ascolta Alessia, ascolta Alessia, cosa ti deve dire poi, Massimo, ho già preso la decisione, però posso dirti una cosa, Massimo, ascoltami, ascoltami, non la reggo fisicamente, una settimana con quelle litigatine, lui col muso, il fuoco, le cose, non la reggo fisicamente. Massimo, non capisco niente, ascoltami.